Complimenti a cuore Napoli Basket, perché sono ragazzi davvero bravi, una bella squadra, una bella società, piena di competenza, passione e entusiasmo. Ha vinto Coppa Italia, stanno andando alla grande in campionato, siamo orgogliosi perché sappiamo che fatica c'è stata dietro. Ringraziamo gli sponsor, ma anche l'amministrazione comunale ha fatto un lavoro importante, ha patrocinato questa squadra, ha lavorato sul Parabarbuto. Quindi insomma, dimostrazione che per noi lo sport è davvero un'eccellenza della nostra città, non è solo il grande Napoli che ieri ha dato una bella lezione di calcio all'Olimpico contro la Lazio.